Gran finale stasera alle 21 con il cartellone natalizio del Teatro Verde organizzato dalla cooperativa Teatro e Musica che si conclude con un concerto diventato ormai un appuntamento attesissimo, il Gospel che vede in questa edizione protagonisti il Virginia Gospel Ensemble. Dopo i due sold out dei titoli in cartellone che hanno visto le applauditissime seratte con i Pink Floyd History è stata la volta del flamenco del mar messo in scena da Reina Lopez e il virtuoso della chitarra Riccardo Ascani e i suoi giovani musicisti. Oggi si chiude con l'attesissimo concerto Gospel che ci viene presentato in anteprima dal presidente della cooperativa Teatro e Musica Stefano Mancini. Il terzo spettacolo è il classico Gospel Natalizio il 21 dicembre al Teatro Verde ed è uno dei tradizionali appuntamenti del Teatro e Musica perché Gospel è naturalmente il canto per eccellenza natalizio. Questi inni al Signore gioiosi e felici di una tradizione afroamericana. Il complesso è il Virginia Gospel Ensemble, è un complesso che viene dalla Virginia naturalmente ed è uno dei più oggi affermati dal punto di vista del parorama Gospel.